Non parliamo da quella parte, non mi sembra ci sia qualcuno De qua! Eh oh! Ma perché? Ma perché? Mi sono cagato sotto pure BELLA RAGAZI QUAISTA E BENVIO IN QUESTUNISSIMO VIDEO Quest'oggi siamo su Battlefield 3 ragazzi Torniamo dopo tantissimo tempo su questo gioco Io spero veramente di riuscire a fare un buon punteggio Siamo su un deathmatch a squadra in gran bazar Spero veramente di fare qualcosa di buono Ti chiamo una bombetta là, merda, merda, ce l'ho pure le spalle Merda, merda, ma come cazzo ha fatto a ammazzarmi? C'ha fatto 5 di vita, l'avevo quasi ucciso Ok, uno è andato Cerco di avvicinarmi Merda, merda, ma come ha fatto? Stavo dietro al muro, come ha fatto a prendere me? Merda, 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 quanti sono? BAM, preso, regà, colpa la testa con Con la Magnum Però ovviamente mi hanno fatto esplodere con l'RPG Perché ovviamente così si fa Proviamo con il cecchino ragazzi L'SV98 Ecco la gente BAMF, uno No, merda, l'ho lisciato Che cazzo? Ma come l'hanno fatto? Ma perché stava qua questo? Oh, ma non riesco a scavalcare qui Ma com'è? Ma perché? È crollata la casa nel frattempo Sta esplodendo tutto Oh, mamma mia, lo scoop, regà Incredibile Ah, ah, merda, però l'ho preso Uno l'ho preso Abbiamo ucciso Silveno 93 Eccolo laggiù, eccolo laggiù Appena esci di uccido Appena esci di uccido Preso BAM, preso, regà, preso Abbiamo preso Brody Oh, continua a fare fail Ok, l'abbiamo preso Colpa alla testa Meno male perché ci stava per uccidere Stiamo perdendo però Stiamo perdendo la partita A parte che la partita sarà lunghissima Ragazzi, non so se ve la farò vedere tutta quanta Perché dobbiamo arrivare a 800 ticket E sono tantissimi i 800 ticket Sono 800 uccisioni Oh, oh, oh BAM, doppia uccisione, ragazzi Sono anche salito di livello L'acidologia, sta l'altro Non so se l'ho ucciso Adesso sì Adesso sì Abbiamo fatto 3 kill e così al volo Regà, meno male Meno male perché stiamo andando un attimino male adesso Oh, quello laggiù No, no, no Vabbè, davanti, dietro, a destra, a sinistra Sono da tutte le parti Ma com'è possibile Via, via, forza Subito, 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 subito Ok Ma che cazzo La claymore ci hanno messo Mortacci vostra Di là non c'è nessuno Di qua sì Merda Ma perché Come fa Perché sta sdrai Perché sta facendo il verme questo Perché sta sdraiato Aia, aia, aia Ma perché colpiscono solo me BAM Morto La bomba, la bomba Catroia Mo' va, ti ropro io La prossima volta Aia, aia Preso, ragazzi Preso Non so neanche io come Ma l'abbiamo preso Perché la gente sta sdraiata In mezzo ai mattoni Ma perché Grazie per avermi curato, regà BAM Preso, regà Non so neanche io come ho fatto Però Ho sparato un po' a cazzo Con la magnum E l'abbiamo preso Forza Fatevi avanti Venite BAM L'abbiamo ucciso Con la granata, regà Cioè Così Proprio i sisi E ci uccidono Con un colpo alla testa Da dieci miliardi di chilometri Che ho nel cecchino Torniamo da quella parte Non mi sembra ci sia qualcuno De qua Ma perché Ma perché Mi sono cagato sotto pure Oh, quello che vuole fare Che vuole fare Oh, ma come fa Dai, perché 16 di vita È rimasto Oh, oh, oh Perché mi fa nasce De spalle Madonna, regà Mi è passato un razzo Vicino le labbra Che bello Quando provi ad aiutare I tuoi compagni E ti arriva una granata Sotto i piedi Poi c'è un altro Stagliometro Ma stiamo operando questo Che credo sia Per arrivare qui sopra No Eccolo BAMF Oh, questo Ah Muori Bam Ok, ucciso Ve l'ho detto Regà, l'SKS Era un'arma Overpower Guardate che stiamo Per uccidere il cecchino No, niente Niente, niente Non ce l'abbiamo fatta Regà Non ce l'abbiamo fatta Abbiamo sparato tipo 10 colpi allo Spicolo del muro Oh, niente, niente, niente Non riesco mai a colpire nessuno Ho una mira di merda stamattina Aia Affanculo Oh, ma quello là sopra Che sta a fare Ma che è Spider-Man, regà Ma come fa a stare là sopra Vediamo se riesco Oh, quello là sopra No, merda L'ho lisciallo Come ho fatto a lisciallo Ok, adesso è morto Per esempio Quello là giù Che sta a sparare Come matto Ecco, l'abbiamo ammazzato Perché vanno ammazzate Le persone che sparano Come i matti, no Ecco il cecchino Ecco il cecchino Lo aspettavo io il cecchino Lo aspettavo Arriviamo fino a metà partita, ragazzi Quindi alla prima squadra Che arriva a 400 punti E poi stacco la registrazione Perché sennò avrebbe un video Troppo lungo E poco codibile BAMF Ucciso, ucciso, ucciso Muori, merda Muori, 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 muori Ok, è morto, è morto, è morto, è morto Però sto per morire pure io Sto per morire anch'io Sto per morire anch'io Eh, vaffanculo, sono morto Aaaaa Ma perché non muore? Oh, gli ho sparato tutti i colpi Della mia vita E non è morto Oh, muori, muori Dai, regà La gente fa veramente Spider-Man O sarta dai tetti Dove stanno le merde? Dove stanno? Oh, oh, madonna, regà Che esplosioni della madonna Ah, mio figlio poteva morire Ma sono morto prima io Merda, 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 merda E vabbè Io pure vado a far rambo Ogni tanto, regà Mi viano attacchi Ah, ok BAMF No, regà Se mi passavo pure quest'altro Mi tagliavo Mi tagliavo proprio Ok, ragazzi Io direi che per questa partita Su Battlefield 3 Possiamo concludere qui Mi raccomando Se il video vi è piaciuto Fatemi sapere con un like O con un commento qui sotto E se ne volete altri Ditemelo Perché, insomma Io ve li faccio Perché a me piace giocare a Battlefield Anche se Devo recuperarci molto la mano Però fatemi sapere qui sotto Nei commenti Se volete altri gameplay Su questo giuoco E niente ragazzi Noi ci vediamo Come sempre Al prossimo appuntamento Mi raccomando Lasciate un like Un commento E se non siete iscriviti al canale Noi ci vediamo Come sempre Al prossimo appuntamento Quaiste Bella